Ciao a tutti amici di Calendricene, bentornati ad un nuovo episodio dedicato al nostro Sid Meier Civilization 6 con John Curtin, questo è il secondo episodio. Sono veramente contento perché mi piace tantissimo questa mappa terra. Allora, nello scorso episodio abbiamo iniziato l'esplorazione dei continenti, alla ricerca di una nuova civiltà che ci sblocchi in un momento europeo per la scrittura. Allora, nel frattempo abbiamo colonizzato Perth, adesso stiamo lavorando su una rotta commerciale, abbiamo dovuto gestire dei barbari che sono abbastanza noiosi, e quando dico abbastanza noiosi intendo dire veramente dei rompipalle pazzeschi, che come potete vedere ci stanno dando un po' di grattacapi. Allora, qui per non perdere il mio tromboliere come posso fare, a salute 24. Niente, provo a fortificarlo e a curarlo ragazzi, nella speranza che non muoia, perché se lo attacco l'arciere barbara a cavallo poi me lo uccide nel turno successivo. Intanto ho trovato il campo che sta spammando delle orde di guerriere a cavallo, praticamente di solito fanno due guerriere a cavallo e un arciere a cavallo, come in questo caso. Il problema gigante è che... sapete cosa facciamo? Quanto ci si mette a questo monumento 5 turni, un arciere 5 turni? Dai, ci vado nucleare, compro un arciere in modo da far fuori questo nemico e poi andiamo a distruggere il campo definitivamente. Però poi dopo siamo tranquilli. Perché se no spammano truppe a go-go. A difficoltà più basse magari fanno un barbaro alla volta, qui ne fanno tre. E quindi mi blocca un po' l'espansione territoriale. Allora, io non ho ancora deciso che tipo di vittoria voglio conseguire. Però, visto che abbiamo tanto territorio a disposizione, siamo abbastanza isolati, possiamo veramente dedicarci ai distretti e alle meraviglie e concorrere poi a una vittoria o scientifica o culturale. Insomma, vediamo. Però, una bella vittoria... In solitaria. Intanto per la scrittura dobbiamo incontrare un'altra civiltà, io ancora ci spero. I giapponesi non dovremmo trovarli, i cinesi purtroppo non ci sono. Speriamo di trovare gli indiani un po' più a est. Quindi, nel frattempo, vado sulla costruzione navale. Abbiamo già costruito due galere. Quindi abbiamo l'input. Ok, abbiamo l'impulso primo impero. Perché? Ah, perché abbiamo sei cittadini. Quindi fra un turno possiamo sbloccare la colonizzazione e quindi possiamo iniziare a spammare colonists. Perfetto. Perfetto. Cosa dite? Mi serve un'altra unità militare o basta? Bastano questi due. Un altro guerriero ci sta, non si può mai sapere. Intanto Hong Kong gli ha dato la ricompensa. Benissimo. Uh, pietra. Bello il Giappone, peccato che non ci sia sopra nessuno. Va bene, niente. Magari con questa nave andiamo a vedere in India. E se non c'è niente manco in India, non so veramente cosa fare. Se non c'è nessuno in India, possiamo provare in Africa. Magari ci sono gli egiziani. Intanto abbiamo le orecchie sulla valuta, abbiamo la nostra prima rotta, Canberra-Perth, quindi aumenta la produzione e il cibo di un punto a Canberra. Primo impero, cambiamo le politiche. Allora, rimettiamo la disciplina così facciamo fuori questi barbari definitivamente. Il Diorai non ci serve più, prendiamo la colonizzazione e portiamoci in avanti dove stanno qui, eh. Adesso gli faccio vedere io questi. E abbiamo anche una nuova civica che potrebbe essere... Andiamo a fare una beeline sulla filosofia politica. Quindi mano d'opera di Stato costruisci un distretto qualsiasi. Ok, magari a Perth iniziamo la costruzione del distretto religioso. Potrebbe essere una buona idea. Uelà quante perle. Ma soprattutto quanti pascoli riesco a fare. Questa è la città perfetta per Petra. Perché se io la piazzo vicino a perle e pecore, poi tutto il resto è deserto. Il problema è che c'è poca produttività. Ma attenzione perché sembra che abbia... Purtroppo il campo ha spammato. Maledizione. E quindi non so quanti cavalli... Vai, Giacarta! E casca fagiolo perché è la terza città-stato. E quindi prendiamo l'input per la civica filosofia politica. Quindi dobbiamo costruire un distretto per avere il bonus. E poi possiamo correre verso la nostra prima forma di governo. Che devo ancora decidere quale sarà. Ma la scopriamo insieme. Vediamo quante unità ha spammato. Per adesso un cavallo. Lo facciamo fuori facilissimo, guardate. Teniamo il guerriero in avanti a fare da scudo e l'arcere dietro a tirare. Intanto Canberra adesso ha un'unità militare. Colono. Questa unità militare va già a posizionarsi dove voglio mandare il colonist. E noi andiamo alla ricerca dell'India o della Cina. Bene. Bene, bene, bene. Ottima apertura, ragazzi. Sono soddisfatto dell'opening che ho. Ah! Doppio spamming. Allora, un cavallo si è suicidato contro il nostro arcere. E un altro è nato. Però lo gestiamo subito. Bene. Mi fa piacere che non ci siano arceri a cavallo. Perché quelli sono abbastanza noiosi. Comunque se facciamo un'apertura larga ci portiamo a caso un quantitativo di risorse che non avete idea. Ok, altro pazzo suicida. Vabbè, a questo punto, ragazzi. Do what you want. Se si suicidano contro l'arcere, chi siamo noi per fermarli, voglio dire. Oh, ma avete visto? Ad ogni turno un cavallo. Cioè, qui siamo veramente a dei livelli di spamming che fanno schifo, dai. Fortifica il guerriero in modo che faccia da scudo. Distruggiamo prima il lanciere e poi il cavallo. La promozione la teniamo quando siamo proprio in fin di vita. Intanto, per tragueri al lavoratore, vediamo luogo santo. Guardate che meraviglia qui. Natural Wonder più 6. Più fede dell'appeal perché abbiamo il bonus essendo australiani. Forse questa è una cosa che non avevo spiegato, però... Il paese di Antipodi dà più 2 appeal quando abbiamo delizioso e più 4... Scusate, più 2 bonus a luoghi santi, piazza del teatro e campus quando abbiamo appeal delizioso e più 4 quando abbiamo appeal mozzafiato. Questa è una casella con appeal mozzafiato. Quindi se io costruisco un luogo santo, ho una meraviglia naturale che regala 2 punti, l'app appeal mozzafiato che ne regala 6... Eh, scusate, 4. So che è una casella bellissima perché è una casella con 2 unità di cibo e 2 di produzione. Mi dispiace molto sprecarla, però... È importantissimo perché avremo un luogo santo super potente. Super potente. Ci darà veramente un quantitativo di fede come 3 luoghi santi, in pratica. A parte il fatto che poi possiamo costruire soltanto una volta sola all'interno. È veramente una zona meravigliosa. Ho dato a una nave l'esplorazione automatica, l'altra nave la tengo in esplorazione manuale perché cerco di andare nelle... Diciamo così, nei continenti in cui so che potrebbero esserci civiltà. E qui è esattamente quello che, come voleva si dimostrare, promozione, in modo che il nostro guerriero fa sempre da scudo e uccidiamo i barbari con l'arcea. Ultimo colono a Canberra perché, ok, questa è una zona ottima per una città, qui ce ne sta ancora un'altra, oppure possiamo già andare a nord. Potrei continuare a spammare coloni a questo punto. Adesso vediamo. Ok, grandi ragazzi. Abbiamo incontrato l'India. L'India è una civiltà culturale e religiosa. Se fondiamo una religione, loro cercheranno di invaderci per portare da loro. Però io cerco da subito di iniziare a portare un po' di buone relazioni con Gandhi perché non voglio scontrarmi. Prima impressione negativa, meno quattro, governi diversi, hanno un'oligarchia. Vabbè, noi magari riusciamo a sbloccare l'oligarchia presto quando abbiamo la civica adatta. Ovviamente Gandhi ha un livello tecnologico e culturale più avanzato del nostro perché ha difficoltà imperatore e computer bara. Cioè, bara ha dei vantaggi notevoli. Ma noi lo bastoniamo lo stesso, non vi preoccupate. Che bastardi. Avete visto che manovre fanno? Attaccano l'arciere perché è, diciamo così, la parte un po' più dedicata. Ma io adesso gli do la promozione così, me lo curo e ha dovuto attaccare di nuovo un cavallo. Tosto. Va bene, dai. Andiamo a vedere dove sono le città di Gandhi. Sono curioso. Quindi qui Perth, magari, come gestione dei cittadini... Eh sì, cerchiamo di tenerla sul cibo, però. Va bene avere il luogo santo, però prima vorrei farla crescere verso i tre o quattro abitanti. E devo assolutamente fare una bomba culturale sulle pecore. Quindi questa casella, se non la recuperiamo subito... Ah, fra cinque turni, perfetto. La recuperiamo fra cinque turni con la cultura. Meglio di così non potevo chiedere. Però mi serviva una unità militare in più, eh. Assolutamente. No, no, in realtà no. Riesco a far fuori questo campo. Allora, qui una fattoria. In modo da velocizzare Perth. E la prossima sarà una... Un pascolo sulle pecore che ci darà non soltanto cibo e produzione, ma anche cultura. Non dimentichiamolo. Un altro! Ma caspita! Cioè, praticamente questi spamman unità militare ogni due turni. Un altro cavallo. Ragazzi, se non avessi gestito l'orda... Ma vaffanculo! Almeno siamo riusciti a distruggere il campo. Diciamo questo, dai. E niente, devo portare a sud questo guerriero per tenere a bada... Il guerriero a cavallo. Potevo già utilizzarli in realtà. Ho fatto un piccolo errore tattico. Potevo già utilizzare il secondo guerriero che era a nord per distruggere il campo a sud. Ma ormai è tardi e abbiamo un cavaliere che cercherà di... Metterci in difficoltà. Quindi fortifichiamo il guerriero e preghiamo. Cosa abbiamo ottenuto? La navigazione? Sì, perché siamo già nell'età classica. Ok, posso imbarcare i coloni. In realtà potrei andare a fondare la prossima città. Non qui a sud. In cui c'è... Ci sono un po' di cavalli, ma non mi piace molto. Ma mi piace molto di più... Quest'isola... Quest'isola... Perché ha accesso alle spezie e al rame, alle banane. Sì, ci sono isole veramente notevoli, infatti, di amenities. Vediamo, dai. A questo punto sblocchiamo... No, sapete cosa faccio? Una beeline verso la matematica perché voglio costruire Petra in questa città. Che sarà... Adelaide. Voglio costruire Petra ad Adelaide. Appena abbiamo la tecnologia, la prima cosa che facciamo ad Adelaide è Petra. Lavoriamo subito a un costruttore perché questi pascoli ci saranno veramente il non plus ultra. Andiamo a vedere se troviamo gli egiziani o il Congo. In Africa. Sì, qui il guerriero lo perdiamo. Praticamente ci ritroviamo poi con un guerriero solo. Pazzesco. Ne abbiamo costruiti veramente tantissimi. Canberra, che cosa facciamo? Facciamo il campus? Monumento non ci serve per ora. Abbiamo una produzione culturale buona. Per avere il colosso serve... Un distretto porto, ok? Lavoriamo a un campus, ragazzi. Allora, come potete vedere, a Canberra l'appeal è molto buono qui sotto. Perché abbiamo un più 4, anche se poi non riusciamo a fare il campus vicino a quello di Perth, però qui abbiamo un bonus notevole. Quindi io per adesso smetto di spammare i coloni. Mi viene suggerito di portarla a sud-ovest, però a sud-ovest non ho veramente risorse di lusso, mentre qui metto le mani sulle spezie che preferisco. Iniziamo a fondare la nostra prima città fuori dal continente. Ah, bene. Ok, bomba culturale. Abbiamo un pascolo a Perth. Andiamo a vedere se possiamo sfruttarlo subito. Assolutamente sì. Due cibo, tre produzione, uno cultura. Non posso chiedere di meglio. E blocchiamo poi la fattoria, sempre per dare il focus alla crescita a Perth. Però con il terzo abitante lavoreremo anche la risorsa di rame, quindi il luogo santo inizierà ad andare avanti più rapidamente. E abbiamo gli egizi. Iside. Incarnazione del Nilo. Cleopatra. Quindi finora Gandhi e Cleopatra. Ok. Non sono dei guerra fondai, questo è positivo. Perché finora le nostre... Però guardate che Cleopatra ha già i templi. Chi è che... No, non ci posso credere, sono già state fondate tre religioni. Cioè io sono a 28 turni dalla fondazione di un luogo sacro. Secondo me non ce la faccio. Probabilmente... Vabbè, gli egizi avranno una religione, l'India è già una religione. Se ci sono anche gli arabi in gioco sono fregato. Però... Sono contento perché... I barbari si sono suicidati. Letteralmente. Tengo questo guerriero in questa zona perché qualora nascessero altri campi barbari dobbiamo poi costruire un esercito. Ma fino ad allora possiamo stare tranquilli senza unità militari ed espanderci. E quindi lavorare sui builder e lavorare sui distretti. E sulle meraviglie. Guardate quante sfinge ha già costruito. Mannaggia, oh! Ma stiamo giocando a 7 o a 6? Cazzo. Va bene. Raccadet, 6 abitanti. Vabbè, quasi quasi do l'esplorazione automatica anche a questa galea. Dai. Quello che volevamo incontrare l'abbiamo incontrato. E le mappe che ci servono per ora ce le abbiamo per la nostra espansione iniziale. Però... Più avanti... Magari vedremo. Ok. Ah, abbiamo altre pecore. Va bene, però a questo punto preferisco bloccare il rame in modo da velocizzare la costruzione del nostro distretto. È sicuramente più utile. Speriamo che non ci siano barbari su quest'isola. Cosa che io ho dato per scontata, ma... Se qui ci fosse un campo... Usare un deterrente non è una cosa vergognosa. Possedere un'arma e usarla sono due cose molto diverse. Credo che l'India sia arrabbiata con noi perché non abbiamo un esercito. Ah no, in realtà no. Era una cosa positiva. Mi sta dicendo che il fatto che abbiamo un esercito scarso gli fa piacere. Il fatto che siamo in pace, che non stiamo attaccando nessuno, aumenta le relazioni con l'India. Bene. Attaccare chi? Che non abbiamo uno straccio di esercito. Intanto abbiamo incontrato Zanzibar, in Africa. Altra città commerciale. Finirà sotto le grinfie degli egiziani, comunque. Vabbè. Niente, fondiamo la nostra quarta città. Bellissima, anche vicino alla montagna. Melbourne. Melbourne, Melbourne. Cresce in cinque turni, non male. Qui serve un monumento, altrimenti non riusciamo ad espandere i nostri confini, visto che non abbiamo pascoli. Lo facciamo subito. E abbiamo 216 fondi. Ok, abbiamo trovato un'altra meraviglia naturale. Zinchi de Bamara, che è in Madagascar, se non sbaglio. Quindi, finora, l'unica meraviglia naturale che abbiamo è la barriera Corellina e poi qui il Madagascar. D'accordo. Allora, cambiamo le politiche. Prima di cambiare le politiche, voglio vedere se potrei migliorare... Ah, adesso è un'autocrazia. Gandhi. No, noi siamo un'autocrazia. No. Gandhi è un'autocrazia, l'Egitto è un'oligarchia. Noi andiamo a vedere quello che ci può servire al meglio per espanderci come civiltà spammosa e pacifica per ora. L'autocrazia ci dà due carte militari, diciamocelo, non ci servono. Invece due carte economiche della Repubblica Classica ci danno una mano. Tuttavia, l'oligarchia è un po' più bilanciata e ci dà forze di combattimento delle unità terrestri più 20. No. No. A questo punto, tutte le città con un distretto ricevono più attrattiva, visto che abbiamo due città con due distretti. La Repubblica Classica è quello che ci serve. Assolutamente. E andiamo a ricercare probabilmente il misticismo nella speranza di avere poi le carte per ottenere la religione. Intanto, la colonizzazione la teniamo. Voglio ottenere anche l'Ilcum, per avere dei builder più veloci. E magari, due punti influenza per turno, leader carismatico, le politiche jolly, per adesso non le abbiamo. Possiamo ottenere la Corvée, anzi, la pianificazione urbana, più uno di produzione in tutte le città. Quindi praticamente guardiamo quattro martelli per turno, visto che abbiamo quattro città. E, velocissimo, costruisco una biblioteca Canberra che mi darà un vantaggio scientifico. Anche se con la scienza adesso stiamo producendo bene. Magari, Adelaide, può già acquistare un costruttore a partire dal prossimo, ok. Ah, il Kilimanjaro abbiamo trovato. Beh, ragazzi, Zanzibar ha meraviglie naturali, ha il Kilimanjaro da una parte e quest'altra dall'altra. Cioè, se conquista Zanzibar divento veramente ricco in meraviglie naturali. Intanto ha perso un problema gigante di housing. No, di attrattiva. Perché abbiamo soltanto il rame, ecco perché. Dobbiamo lavorare su altra attrattiva. Certo. Dobbiamo recuperare le perle di Adelaide e le spezie di Melbourne, altrimenti non si cresce più. A questo punto acquisto immediatamente un builder, vado a recuperare immediatamente le perle e poi lo spediamo a morire, a fare l'ultima sulle spezie di Melbourne. Cambiamo le politiche. La pianificazione romana adesso va via e mettiamo la rivelazione della speranza di poter lavorare ad un grande personaggio. Ci sono ancora dei grandi profeti utilizzabili, anche se... Allora abbiamo l'Egitto e una civiltà sconosciuta che concorrono. E va bene, l'Egitto ci ruberà l'ultima religione. Mettiamoci il cuore in pace perché guardate, guardate quanti punti hanno già. 57 punti, noi 0. Mi dispiace dirlo, ma non ha senso tenere la carta della rivelazione. La cambio appena possibile. Quindi magari la cambiamo in fretta, ricerchiamo la tradizione militare semplicemente per cambiare in fretta le carte. E adesso dobbiamo scegliere dove mandare il nostro primo emissario. Con calma, prima di finire l'episodio, Seul. Guadagniamo un'oreca casuale per ogni epoca. E poi ci darebbe seta, cavalli e riso. Jakarta, le tue basi commerciali forniscono più oro. Hong Kong, più produzione. No, va bene, e poi a rame. Io direi di andare su Seul perché preferisco avere il bonus scientifico. E poi Seul è molto lontana, non la conosce nessuno. E ce la possiamo tenere tutta vicina vicina a noi altri. Quindi, adesso lavoriamo alle nostre perle. E nel prossimo episodio, quello che vorrei fare è chiudere, quindi, la produzione di questi primi distretti. Terminare l'espansione territoriale, quindi, con un'altra città a sud-ovest. Un'altra città nel Brunei. Quindi poi arriveremo abbastanza vicini agli indiani. E questa città la dovremmo fortificare. O perlomeno costruire delle truppe navali. Dovremmo costruire una buona marina militare. Dopodiché Melbourne, Adelaide, Perth e Canberra si dedicano ai distretti delle meraviglie. E quindi a diventare una civiltà scientifica e culturale potente. Speriamo ad Adelaide, fra otto turni, di poter fare questa benedetta petra. Noi ci proveremo. Sarà difficilissimo perché la produzione di Adelaide è atroce. Magari anche le rotte commerciali ci aiuteranno. Ma lo vediamo insieme. Amici, vi ringrazio per essere rimasti con me. E vi do appuntamento alla prossima. Grazie.